E ciao, siamo venuti a fare un sopralluogo da QB, che è il posto dove facciamo la festa per i 5 anni di Zandegu. Un posto bellissimo. Molto bello. Ecco ti. Ciao. Siamo venuti ai Docks a fare un po' di spesa per la nostra Zandegu festa. E i Docks è un posto incredibile, come vi faremo vedere presto. Forse è uno dei miei posti preferiti al mondo. C'è anche lui, c'è anche lui. Faccino rojo. Allora, vogliamo comprare qua i Docks delle caramelline per la festa. Però siamo un po' in ambasce perché c'è poca scelta. Forse 37 euro di galatine è troppo. No. Sono le 13.30, io ho questa sciarpa che sembra che sia pronta per un'esplorazione sull'Himalaya. Stiamo per uscire di casa e poi andiamo al QB ad allestire. Sono un po' carichi. C'è anche un tubo tra di noi. Un tuffo. 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 Musica Sono le 18 e 26 Stiamo andando a mangiare la pizza! La pizza! Sì, perché prima di ogni festa con tanto alcol che si rispetti bisogna fare un bel fondo di carboidrati E a darci la carica per l'inizio di questa festa Che, d'accordo, è una festa, dovremmo essere super scialli Però in realtà un po' agitati siamo, no? E direi di sì, perché c'è un sacco di gente Eh sì, siamo tantissimi e non vi diamo l'ora Che bella! Io sono agitata Ansia e preoccupazione Sì, ho ansia alla prestazione Anche tu? Anche tu? Mi mangio le unghie Questo tempo agita anche te No, cos'era? Questo vento Questo vento agita anche te Mi mangio le unghie nel frattempo Ma andrà tutto benissimo Forza Maracca Ivo Maracca Ivo Maracca Ivo Maracca Ivo